ciao fragoline nuovo video allora prodotti finiti questa volta sono pochi prodotti ma perché è da un bel po che ce li ho e mi sono ricordata adesso di farvi vedere la seconda parte dei prodotti finiti per quello che adesso vi faccio vedere ma sono pochissimi prodotti però accorciamo così sto video non dura tanto prima di cominciare questo video vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina lasciarmi un like e seguirmi su instagram quando avete fatto questo adesso vi mostro i prodotti allora sono un po più veloce perché ho anche da registrare tutti gli altri video che poi vedete piano piano quando escono iniziamo allora iniziamo da questo colluttorio lister in gusto delicato difesa denti e gengive è un colluttorio praticamente di 500 ml io ho preso questo acqua e sapone perché c'era la confezione sia in formato piccolo che quello che devo finire che era la boccettina piccola che poi vi farò vedere e sia questo formato qua allora io ho ancora la fiacca per cui da tre settimane che lo sto usando e ancora non mi è passata per cui adesso vedremo è troppo forte e non è perché qua c'è scritto menta delicata ma secondo me nei miei gusti sinceramente è molto forte per cui per me è bocciato di sicuro per il mio ragazzo è promosso ma per me è bocciato per cui non lo voglio più comprare preferisco altri colluttori più delicati perché questo qua delicato a me non sembra era è troppo forte quando lo mettevo in bocca per cui sinceramente poi a prescindere che non me neanche fatto passare la mia fiacca però vabbè che poi non è proprio fiacca perché mi fanno male tutte le gengive ma vabbè lasciamo perdere poi vi faccio vedere questo muschio bianco per la lavatrice questo qui ottimo della claire questo qua ottimo la marca vabbè sempre ottima il profumo è molto buono è molto buono il profumo e ve lo consiglio perché mi sono trovata bene per cui ogni tanto questo quando lo prendiamo almeno quando in promozione lo prendiamo così sempre per cui è ottimo poi vi parlo di questo che per me è bocciato questo qua è della sephora cotton flower praticamente è un bagno schiuma se mi ricordo bene perché da tanti mesi che l'ho finito ho la crema mani sempre di questa marca e credo basta se non mi sbaglio però la crema mani ancora la devo provare invece questo qua che è il bagno schiuma l'ho provato ma sulla mia pelle specialmente che delicata non va bene e poi non mi è proprio piaciuto come prodotto per cui questo è di 260 ml credo che costa un po perché la sephora vabbè fa i prezzi abbastanza alti però per me è bocciato per cui questo vabbè me l'hanno regalato per il compleanno credo due anni fa più o meno e ora che finisco i prodotti io sono lenta comunque poi vi faccio vedere il vicinette questo qua disiniscostante gel praticamente è un disinfettante questo è ottimo per il calcare è ottimo per cui non c'è niente da dire è buono anzi anche l'odore non è male per cui ve lo consiglio andiamo avanti un po più veloce come vi dicevo nell'altro video sui prodotti ho provato anche questo qua sempre della glade sensual sandowood e jasmine questo è molto più buono a confronto dell'altro che vi ho fatto vedere per cui se volete prenderlo questo qua e come profumo è ottimo cioè vi spruzza l'ambiente il poi praticamente è una meraviglia sto sto dure è leggero e e quando entrate avete praticamente il bagno tutto profumato io questi qua grandi li sto usando me l'avevo già fatto vedere in un blog lo sto usando praticamente nel bagno invece quello piccolino che ve l'avevo fatto vedere che ancora non è finito sta durando l'eternità però meno male che ha il sensore di movimento quello piccolo con la boccetta piccola lo sto usando qui in camera e diciamo che anche quello è molto buono però poi ve lo farò vedere più là poi vi faccio vedere anche questo qua che è il bio form plus detersivo lavatrice igienizzante praticamente questo rimuove i e questo a 30 lavaggi l'odore è ottimo perché ha un odore infatti l'ho finito da da poco è verde se sono un goccio questo qua nei vestiti lascia un buon odore per cui io ve lo consiglio perché è buono infatti la prossima volta lo ricompro ancora perché sinceramente è molto buono sui vestiti lascio questo odore qua leggero ma però lo senti l'odore sui vestiti per cui ve lo consiglio provatelo perché è ottimo come prodotto il bio form dato che credo che nuovo perché non l'ho mai visto e ne ho preso uno per provarlo però vi assicuro che ottimo poi passiamo al fondotinta allora io ho provato il fondotinta questo qui della di bio supplime si che è praticamente lo 02 allora questo che un campioncino da un bel po che ce l'ho però l'ho usato in questi in questi giorni lo 02 come colore che ho già applicato è ottimo sulla mia pelle per cui è già promosso solo per il colore della mia pelle che si applica bene poi è anche leggero per cui la prossima volta sul sito dei bio shop qua è puro bio lo voglio comprare e provare perché questo fondotinta con questo campioncino qua che mi hanno dato è veramente ottimo per cui se volete provarlo anche voi io vi faccio vedere il nome è fantastico l'ho applicato e mi sono già trovata bene anche solo per un goccino che è veramente ottimo poi invece questo della rocher è troppo forte è un colore forte che adesso non so che colore è però un colore forte e non andava bene sul sulla mia faccia sul mio colore della pelle questo è 14 ore fondotinta 14 ore si chiama 0 così solo che con questo è bocciato perché non mi sono trovata bene e poi era talmente duro da stendere che sinceramente non mi è piaciuto per cui anche se è un campioncino quello è bocciato invece l'altro è promosso poi vi faccio vedere questo sempre vi faccio vedere questo della rocher perché ho ancora altri prodotti campioncini piccoli del calendario di tre anni fa ancora non l'ho ancora utilizzati tutti e devo utilizzare questo qua è bocciato questo sa di menta è troppo forte quando lo metti in faccia è di 30 ml perché sono campioncini controllato nel calendario devi praticamente applicarlo e aspettare 10 minuti e poi risciacquare non mi è piaciuto è troppo forte sia l'odore che un po mi bruciavano anche gli occhi e poi la consistenza non mi piace per cui questo è bocciato adesso non so se lo leggete in contrario però sinceramente questo qua è proprio bocciato poi vi faccio vedere questo che anche questo è bocciato però questo qua l'ho preso al lavoro perché hanno lasciato questo campioncino al lavoro e io ovviamente era chiuso perché io prendo le cose chiuse quando vedo qualcosa prendo le cose chiuse tanto si può prendere è uno shampoo delicato al miele e altera infatti i miei capelli sono sparati perché questo shampoo a parte che si sente il miele e io odio il miele non mi piace l'ho provato e non mi piace questo qua è villa d'este praticamente lo vendono qua cernobbio dove abito io e lo trovate solo a villa d'este credo che qualcuno conosce l'hotel villa d'este quello ricco dove vanno praticamente i vip qua vicino dove abito io comunque questo qua è bocciato a prescindere dal fatto che sa di miele e ho messo sui capelli adesso è passato un giorno e sinceramente non mi piacciono perché a mia anche ho tutti i capelli con i nodi ho provato a pettinarli mamma mia un fastidio che non riuscivo neanche a pettinarli per cui sto shampoo non va bene per i miei capelli poi passiamo a questo mascara della royal beauty allora la marca royal beauty non è male è buono perché la vendono acqua e sapone questo mascara è ottimo non è male perché a due praticamente alla base coat e poi il mascara volume infatti vabbè a me mi si è rotto comunque c'è sia lo scovolino fatto così io l'ho finito però mi sono trovata bene specialmente con questo qua la base coat che è ottima di più mi piace la base coat che il mascara però non è male come marca perché io sto provando questa marca qua ogni tanto poi me la regalano per il compleanno per natale e non è male è abbastanza diciamo buona come come marca e come prodotti ultimo prodotto è questo della neutro rovers fresco zero sali 48 ore che è praticamente zenzero e bergamotto questo è buono per cui non c'è niente da dire anche questo qua era piccolo l'odore mi piace e lo ricomprerò ancora perché non è male è buono poi se prendo più grande dura di più e secondo me è buono come 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 dedorante spray non so perché sono nera sulle mani comunque niente questo era l'ultimo prodotto spero che questi prodotti sono piaciuti e fatemi sapere se avete provato questi prodotti o volete provarli qua sotto nei commenti il video è già durato anche fin troppo io vi saluto ci vediamo al prossimo video e credo che in questi mesi non ci saranno prodotti finiti ma ce ne saranno dopo oltre credo dicembre perché ora che finisco tutti questi prodotti che ho a casa a voglia detto questo ci vediamo al prossimo video ciao